L'idea di un esercito europeo è vecchia come l'idea di Unione Europea. A pensare ad un armè del vecchio continente, già il generale de Gaulle, che insieme ad altri stati membri immagina una comunità europea della difesa, non se ne fa niente fino agli anni 90 del secolo scorso, quando col trattato di Maastricht gli stati membri optano per una politica estera e di sicurezza comune. E a Nizza, nel 2001, si dotano anche di un braccio armato. La cosiddetta forza di reazione rapida, costituita da almeno 60.000 uomini, cui, in maniera diversa, contribuiscono i vari stati membri, da riunire in caso di emergenza nel giro di 60 giorni al massimo. Resta tuttavia la diffidenza di molti stati membri, resti a cedere anche in parte la propria sovranità su temi quale difesa e sicurezza dei propri confini. Non solo, c'è poi l'inghiponato. Come immaginare un esercito europeo che non sia concorrente alle forze dell'alleanza atlantica, su cui, peraltro, si allungano ombre sinistre d'oltre atlantico. Domande cui si è risposto con molti sé e altri perché, finora, una certezza però c'è. L'Europa è la seconda economia al mondo per spese militari, con oltre 300 miliardi di dollari. La precedono gli Stati Uniti, che spendono oltre 500 miliardi di dollari. Tra le critiche di Trump verso la Nato e le offensive russe in Ucraina e al confine orientale dell'Unione, che preoccupano soprattutto i paesi baltici, l'Unione una mossa se l'è data. Nel 2017 ha siglato il programma PESCO, firmato da 23 stati membri, che prelude a un'integrazione più veloce tra questi stati a livello militare. In vista, appunto, di un vero e proprio esercito europeo, a favore del quale si sono espressi anche il presidente francese, Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel.